Si conclude con un accordo tra le parti, il contenzioso stragiudiziale civile tra la Fondazione Festival Pucciniano e il tenore Marco Voleri, infortunatosi durante la rappresentazione di Turandot nell'agosto 2015. Un accordo che ha visto per il tenore un integrale risarcimento dei danni, senza alcun onere economico a carico della Fondazione e con piena soddisfazione del maestro Voleri, che ha preannunciato di rinunciare a costituirsi parte civile e a citare quale responsabile civile la Fondazione Festival Pucciniano. L'incidente, che fa parte di una lunga letteratura di incidenti in corso d'opera, ha dichiarato Veronesi, è stato per la Fondazione un'ulteriore motivazione a vigilare sulla corretta applicazione di tutte le misure di sicurezza, soprattutto in palcoscenico, ritenuto nel settore dello spettacolo certamente l'ambiente più a rischio per la sicurezza del personale artistico e tecnico che opera sullo spazio scenico. È stato raggiunto un accordo tramite la nostra assicurazione con il tenore Marco Voleri, infortunatosi nel 2015, ma siamo felici che anche questo fatto ha creato in noi e a catena anche in altri teatri un proprio movimento per la totale messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Veronesi ha annunciato inoltre che il tenore Marco Voleri tornerà a calcare il palcoscenico di Torre del Lago per il Festival 2018, festival che aprirà il 6 luglio prossimo con il concerto inaugurale di Andrea Bocelli. Il 6 luglio avremo Andrea Bocelli, nella prima parte si eseguirà la messa di gloria del maestro Puccini, nella seconda parte ci sarà un gala anche arricchito da presenze più televisive.